Ciao a tutti amici! Finalmente la mia applicazione per iPhone l'hanno messa online, quindi ve la faccio vedere. Si chiama iMagic. È un gioco di magia con le carte, che adesso prima vi faccio una dimostrazione con le carte vere e dopo ve la faccio vedere che è un gioiellissimo. E quindi, si, scaricatela a tutti, che potete sorprendere tutti i vostri amici, parenti e anche i nemici. Ecco, adesso vi faccio vedere la versione con le carte. Ecco, prendete un mazzo di carte, fate così, fate così, fate così, fate così. Quindi, allora, scegliete una carta, non ditemela, ma ditemi in che mazzetto è. Ok, siccome non potete scegliere, ve la scelgo io. Diciamo il 5 di quadri, questo, il 5 di cuori. Adesso, in che mazzetto è? È qua, e quindi, andiamo. Ecco, questa è la versione reale. Adesso potete anche scaricare la versione dell'iPhone. Questa è la magicissima applicazione, fatta da me e da un mio amico. Possiamo notarla. Gli mitigiani. Allora, dovete cercare iMagic, card. Guarda che bella! Potete sorprendere tutti i vostri amici. E adesso vi farò una dimostrazione sull'iPhone. Allora, accendiamo l'iPhone. Guarda che bella! Play. Allora, scelgo l'asso di cuori. Vedete, sì. Adesso un po' di polvere magica. E' bellissima sta applicazione. Allora, sì, scaricatela a tutti, eh. Allora, per il momento è tutto. Ciao! 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 Ciao!